Nuovo episodio nella querelle societaria tra il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il socio di minoranza ed ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. Come fatto sapere da una nota emessa da CIMAV, società riferibile a Iannascoli, il Tribunale dell'Aquila con due sentenze diverse ha dichiarato nulli i bilanci della Delfino Pescara 2015 e 2017. Il Tribunale ha dunque poi annullato le deliberazioni delle due assemblee dei soci nelle parti relative all'approvazione dei bilanci. Quello del 2016 era stato già dichiarato nullo dal Tribunale Aquilano nell'ottobre 2020. Su questa decisione la Delfino Pescara ha proposto appello e la sentenza di secondo grado è attesa, come riferisce la nota CIMAV, il prossimo mese di marzo. Quindi il Tribunale con tre sentenze diverse, conclude la nota, ha dato ragione all'ex amministratore delegato Iannascoli ed ha dichiarato nulli i bilanci del 2015, 2016 e 2017. Le ultime due sentenze sono state emesse dopo Camera di Consiglio dello scorso 2 dicembre. A pesare nella decisione per il bilancio 2015, secondo i rilievi del giudice, sono l'illegittima iscrizione di inesistenti, inesigibili crediti per imposte anticipate per oltre 3,3 milioni, l'omessa rilevazione del debito verso il club Envigado per 900 mila euro a seguito della cessione del calciatore Quintero, la previsione di un incongruo fondo di svalutazione crediti per 39.658 euro. Per il bilancio 2017, molto ruota sull'inserimento di un credito ritenuto da CIMAV inesigibile per 400 mila euro legato alla mancata opzione di acquisto del calciatore Maxi Rodriguez del Wanderers Montevideo, importo per il quale, secondo il giudice, doveva essere spiegata nella nota integrativa la sua effettiva recuperabilità, data la rilevanza dell'importo. Sempre nella sentenza relativa al 2015, il giudice ha respinto l'istanza di CIMAV di annullare per abuso di maggioranza la delibera assembleare di nomina del nuovo CDA, composto da Daniele Sebastiani, il vice Gabriele Bancoschi e Roberto Druda. Va ricordato che al 30 giugno 2015, giorno di chiusura del relativo esercizio, Danilo Iannascoli era ancora amministratore delegato di Delfino Pescara, salvo dimettersi due giorni prima del 28 ottobre 2015 la data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Assemblea alla quale Iannascoli non ha partecipato, rappresentato dai suoi legali. Come riportato nel verbale dell'assemblea, Iannascoli aveva preso parte alle riunioni dell'organo amministrativo anche dopo la chiusura dell'esercizio, risultando poi assente in quelle avvenute dal 31 agosto in poi. Sentenze che non hanno ripercussioni sul lato prettamente sportivo, ma che sono destinate ad alimentare ulteriori tensioni. Non bastassero le contestazioni verso il presidente Sebastiani, tornate in auge nella gara contro la Lucchese e anche nel giorno dell'Immacolata. Una querelle destinata peraltro a protrarsi, poiché è probabile un appello di Delfino Pescara verso le ultime due sentenze e anche dopo l'appello di marzo per il bilancio 2016, via l'ipotesi del terzo grado. Circa il calcio giocato, la squadra continua la preparazione, in vista del match di domenica contro la Pistoiese. Stamani, nella seduta svolta a Silvi, hanno lavorato a parte Marilungo, Galano e Rizzo. Il tecnico Auteri potrebbe confermare in toto la squadra che ha espugnato Grosseto con Memusciai e il rientrante Drudi, che rischiano la panchina.